In primo piano la campagna vaccinale anti-covid in Abruzzo ormai da 5 giorni si supera l'asticella delle 10.000 somministrazioni al giorno. Un dato che proietta le previsioni di una immunità di greggia, circa il 70% della popolazione coperta, intorno ai primi alla metà di settembre. Venerdì arriva anche il generale Figliuolo, il commissario straordinario del governo. Ci sono novità anche per quella che concerne l'utilizzo dei vaccini, quelli di manipolazione più semplice, Johnson & Johnson e AstraZeneca, nelle farmacie dove si potrà iniziare a svolgere la campagna vaccinale già in questo mese di maggio. Queste sono le novità più importanti, in attesa naturalmente che i dati della pandemia ci confermino un quadro di stabilità come quello degli ultimi giorni. Ma per le ultime novità andiamo proprio in farmacie dove oggi c'è la nostra Marina Moretti che ci parla appunto di questi argomenti. A te la linea Marina. Sì direttore, buongiorno. Buongiorno ai nostri telespettatori. Noi siamo a Pescara, proprio all'interno di una farmacia, visto che le farmacie diventeranno coprotagoniste in questa gigantesca campagna vaccinale. Così era stato auspicato anche per aumentare proprio le possibilità di somministrare il vaccino che, come abbiamo sempre detto, ha insomma una spiaggia sicura o relativamente sicura su cui approdare per vincere il Covid. Ma prima di intervistare il dottor Fabrizio Zenobi, che è il presidente provinciale di Federfarma, io mi soffermo anche su quei dati che stiamo seguendo da giorni sulla Sole 24 Ore e che, diciamo, fanno il punto della situazione sulle quantità di vaccini fatti nelle nostre regioni, nelle regioni italiane. Stiamo seguendo ovviamente un focus particolare, lo trovate anche sul nostro sito internet Labruzzo, perché a seconda delle vaccinazioni che si fanno quotidianamente e ovviamente della quantità complessiva, si raggiungerà prima o dopo quella che impropriamente viene chiamata immunità di gregge, ma che, per meglio dire, si tratta solo della quantità di popolazione vaccinata, diciamo intorno al 70-80%, che è il dato che al momento sembra raggiungibile e anche auspicabile. L'Abruzzo continua a fare circa 9.000-10.000 vaccinazioni al giorno, anche più di 10.000 per la verità, e quindi seguendo queste indicazioni, che sono anche quelle poi date dal generale Figliuolo, anche se siamo leggermente al di sotto, insomma la prospettiva è migliore. Si possono aumentare, certo, come anche con le farmacie, perché aumentare i luoghi vaccinali, oltre che i vaccini che devono arrivare, oltre che la convinzione delle persone che si devono vaccinare, tutto concorre. Concorreranno anche i farmacisti, stanno mettendo a punto, la Giunta ha già approvato questa situazione, ma insomma stanno mettendo a punto anche i particolari. Di cosa vi dovrete munire, cosa dovrete avere per poter somministrare il vaccino? L'organizzazione interna di una farmacia non sarà assolutamente molto complessa, chiaramente ci vuole uno spazio dedicato, ci vuole una stanza separata dal pubblico, dove poter fare l'inoculare il vaccino, ci vuole un'area di attesa nella quale somministrare quello che è il test a cui sottoporre, l'anamnesi a cui sottoporre il soggetto, e poi un'area nella quale il soggetto vaccinato dovrà attendere i 15 minuti post-vaccino. Però essendo appunto un'operazione di sostegno, di allargamento alla possibilità di raggiungere la vaccinazione, l'idea è che le farmacie potranno contribuire con quelle 10-20 vaccinazioni ciascuno che potrebbero portare, essendo circa 300 le farmacie che hanno aderito, a 3.000 vaccinati in più giornalieri, che sono numeri molto importanti, perché contribuiscono ad aumentare la raccolta vaccinale, il numero di soggetti vaccinali. Questo soprattutto in quelle aree un po' più disagiate, nei quali magari si consente al cittadino di non spostarsi nella farmacia del paese rurale, della cittadina rurale, è più facile per il farmacista raggiungere i propri cittadini e poter contribuire così a innalzare il numero dei soggetti vaccinati. Sì, stamattina tra l'altro ho sentito anche un'altra farmacista, la dottoressa Simoncelli, che dice comunque noi stiamo seguendo anche dei corsi per sapere, per imparare, per sapere chi non lo sa fare, insomma, come somministrare questi vaccini. Quindi assolutamente sicuri sotto questo punto di vista. Questo vaccino che probabilmente sarà il Johnson & Johnson, perché è quello monosomministrazione, conservazione più semplice. Sì, probabilmente sarà questo, però dipenderà dalla disponibilità. Abbiamo incontrato già Regione su alcuni aspetti, in prime iniziative di cercare di organizzare il sistema, mancano alcuni aspetti proprio su come far arrivare ai depositi l'ordinativo, quindi come la farmacia potrà ordinare le dosi di vaccino, in che tempi verranno consegnate. Si parla fondamentalmente, sì, di Johnson & Johnson, proprio perché ha metodi di conservazione un po' più agevoli rispetto a Pfizer, probabilmente anche a AstraZeneca, ma di questo ci dovrà dire Regione, perché dipenderà dalla disponibilità, chiaramente, dei vaccini. L'ultima notizia in tempi rapidi che cerco di dare, perché poi è la più fresca, cioè che si potrà fare, anzi, gli studenti minori con i genitori o maggiorenni potranno venire in farmacia e fare un tampone rapido gratuito. Questo aiuterà anche a scovare eventuali positivi all'interno delle scuole. Allora, sì, abbiamo stilato un accordo del quale attendiamo la pubblicazione, quindi mi diceva che probabilmente verrà pubblicato oggi, approvato oggi in Regione, per il quale si potranno fare, effettuare tamponi antigenici rapidi sui soggetti del mondo scuola, quindi studenti, a carico del servizio sanitario regionale. Consideriamo che le farmacie già effettuano tamponi antigenici a carico dei cittadini, però non c'era la possibilità di farli a carico del servizio sanitario regionale. Chiaramente questo è un modo per evidenziare quelli che potranno essere ancora potenziali positivi e soprattutto per consentire magari dentro le scuole l'oriento e la riapertura in maniera un pochino più tranquilla. Perfetto, io ringrazio il dottor Zenon, vi vedremo se poi più in là si potrà aggiungere anche un altro settore, quello dei dentisti, si parla, no? Per quanto riguarda le vaccinazioni. Guardi, io le dico, faccio un discorso, la strategia vaccinale è sicuramente la migliore strategia che abbiamo per abbattere e debellare questa pandemia. più soggetti vaccinano, meglio è. Questo è il punto. Più soggetti vaccinano e più soggetti si vaccinano. Quindi tutti dovremmo essere vaccinati, questo è evidente ed è il modo migliore per ridurre la circolazione del virus e riprendere un po' di vita sociale. E' benissimo. Allora, Carmine, se non hai domande ti restituisco la linea per i prossimi servizi e ringrazio ancora il dottor Zenobi.